Abbiamo tempo in questa seconda parte per un altro ascolto che secondo me è uno dei più sconcertanti per virtuosismo pianistico e anche per momenti di folgorante lirismo in questi sette dischi della Emmy Classics, è l'ottava novelletta di Robert Schumann, incisione del 1978, questa volta effettuata nella piccola sala del Concertgebou di Amsterdam al pianoforte Yuri Yegorov. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.